Allora si sente quando parla papà a queste cose, ha 7 morti di due anni fa e poi si sente molto toccata perché vuol dire papà è sempre, si vede queste cose sui cinesi e anche tutti i lavorati, tutti i lavorati che stiamo qui a Prato Prima è la vita e poi ci sono le altre cose, quindi adesso stiamo migliorando pure a fare questi capannoni e anche altri lavori e adesso ci sentiamo più liberi e anche adesso il comune sta migliorando a fare queste cose quindi adesso ci sentiamo anche più felici, più contenti Un grande piacere, è stata un'emozione grandissima e gli ho baciato anche la mano Porto con me nel cuore le persone che come me si sono trovate senza lavoro a una certa età e dopo tantissimi anni di lavoro e tra cui anche persone che non ce l'hanno fatta Grazie 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 Grazie